Sei pronta? Un attimo, cara. Un attimo sarebbe un istante così infinitesimamente piccolo da non essere divisibile. Cosa intendi dire, caro? La parola attimo ha lo stesso significato della parola atomo. Attimo, così come atomo, deriva dal greco atomos, atomos, che significa indivisibile. Così come i filosofi greci come Democrito ed Epicuro credevano che la realtà fosse tutta costituita da piccolissime particelle indivisibili, dette appunto atomi, allo stesso modo un attimo dovrebbe essere un istante così piccolo da non essere ulteriormente divisibile. Ora, mia cara, se tu fossi davvero pronta in un attimo non avrei avuto certo il tempo di spiegarti tutto questo. Grazie.